Hanno preso il via questa mattina i lavori di realizzazione della nuova cittadella dello sport che insieme ad altre opere già finanziate in attesa di cantierizzazione cambieranno per sempre il volto del quartiere della stazione a Canosa di Puglia. Siamo in viale primo maggio, le mura esterne del vecchio campo da calcio e ciò che rimane della tenso struttura saranno abbattuti per lasciare il posto ad un nuovo impianto al coperto in legno lamellare e fondo in parquet in cui sarà possibile praticare cinque diverse discipline sportive. Costo dell'intervento 1.400.000 euro di cui 900.000 frutto della partecipazione del comune a bandi di finanziamento regionali. Quest'area andrà tutta rigenerata, questo è un inizio di quelle che saranno tutte le attività che verranno svolte in questo quartiere, un quartiere che ha tanto bisogno di regenerazione non solo urbana ma soprattutto direi sociale. Questo è un primo passo, un palazzetto dello sport a tutti gli effetti, un'area ludica per i bambini, tanto verde, un campo da tennis, tutte queste strutture si affiancheranno a quelle già esistenti, comunali e della provincia perché qui c'è già un campo sportivo, un piccolo campo da calcetto comunale e poi c'è il palazzetto della provincia. All'altro lato invece l'amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro e quell'edificio dove ospitava la San Giovanni Bosco si trasformerà in un centro per le famiglie, quindi ancora di più un'istituzione a servizio delle famiglie della città ma soprattutto mi piace dire di questo quartiere che ha tanto bisogno di vedere trasformata la città e i cittadini che ci vivono. I lavori potranno essere ultimati entro giugno, dicono i progettisti. Il rischio di un rallentamento causato dal ritrovamento di reperti archeologici è già stato azzerato attraverso un'indagine preventiva. Abbiamo realizzato prima e fuori dell'appalto delle indagini archeologiche, sono, come prevedevamo, sono uscite una strada in particolare, è un sito di epoca romana, la sovrintendenza è intervenuta, sono stati fatti gli scavi, è stata messa in sicurezza tutta l'area, tutto il sito archeologico, sono state fatte le modifiche e solo successivamente con il parere della sovrintendenza e quindi con un progetto esecutivo è stata messa in appalto questa opera e oggi è stata giudicata e oggi inizio i lavori senza, e mi auguro che non ce ne siano in futuro, sorprese che facciano rallentare o diminuire il valore dell'opera.